Si entra nel vivo sulla questione dello stadio della Riviera delle Palme, quest'oggi un'udienza in forma scritta tra le parti, la Powergrass e il Comune di San Benedetto. La Powergrass chiede 446 mila euro per indebito e arricchimento, intanto si avvia verso la desecretazione gli atti della Commissione Consigliare che si è svolta durante il mandato di Pasqualino Piunti. Luciana Barloci, consigliere comunale di maggioranza, si avvia ad una soluzione la desecretazione degli atti della Commissione Consigliare sulla questione stadio. Ci saranno novità a breve, vero? Noi abbiamo chiesto, io ho chiesto la desecretazione degli atti perché era una promessa fatta durante la campagna elettorale ma un impegno morale verso tutta la cittadinanza. È giusto che tutti i sanbenedettesi possano leggere i risultati di questa Commissione e che cosa ne è venuto fuori. Lei ha fatto l'accesso agli atti, a sostanza di tranne nei particolari, questi documenti daranno delle indicazioni nuove, inedite oppure grosso modo sono argomenti già trattati? Io spero di sì, spero che gli attenti lettori potranno fare delle considerazioni chiaramente. Io spero che dia un po' di luce a questa vicenda. Da stamane, come sapete, c'è la citazione per i quasi 500 mila euro che la Power Grass ci richiede, per cui spero che ci siano delle novità. Il Consiglio Comunale ci sarà il 12 e lì la mozione che immagino sarà approvata a larga maggioranza porterà alla desecretazione. Dall'opposizione avete avuto qualche risposta? Voteranno anche loro? Sapete qualcosa o ancora no? Assolutamente nulla, non ci è pervenuta nessuna informazione. Chiederò prima del Consiglio quali sono le intenzioni. Chiaramente all'opposizione siede l'ex sindaco Piunti, in qualità di consigliere, che era sindaco nel momento della Commissione e uno dei testi chiamati.